Siamo al circuito Tazzo Innovolari di Cervesina in provincia di Pavia. 308 Racing Cup, che è un modello che abbiamo deciso di utilizzare per scendere nel campionato italiano turismo, nella categoria TCT. Lo facciamo con un test, anzi un pilota d'eccezione. Stefano Corsi sarà il nostro pilota ufficiale in alcune gare del campionato italiano turismo. È una vettura che deriva strettamente dalla 308 GTI by Peugeot Sport di serie, la vettura che potete acquistare nei saloni Peugeot, e che adotta il motore da 1,6 litri, qui sviluppato ulteriormente fino ad arrivare a 308 CV. Questo grazie all'adozione di una turbina maggiorata, quella della 208 T16, e una coppia ancora più robusta rispetto ai 330 Nm già generosi della vettura di serie.